Control-Alt-Catch. Almeno funziona così per i computer che si inceppano e lo stesso dovrà fare il Mantova dopo il passo falso in Coppa contro le Ciliverghe. Resettare tutto e rituffarsi nel campionato. Oggi ai martelli arriva il Sasso Marconi, ancora fermo a due punti in classifica. Una ghiotta occasione quindi per tornare alla vittoria e scacciare via i malumori e le score del post-Coppa. Una battuta d'arresto, quella di mercoledì, che è servita al tecnico bianco-rosso per fare leva durante il lavoro settimanale su alcuni aspetti negativi evidenziati anche nelle prime giornate di campionato. Le troppe amnesie difensive avevano già fatto suonare dei campanelli d'allarme interrotti dalle prodezze degli attaccanti virgiliani. Il Mantova quindi oggi è chiamato a fare quello che sin qui ha sempre fatto bene, segnare appunto. Il recupero lampo di Guccione dal problema ginocchio e il probabile impiego di Alteniere dal primo minuto tolgono qualche grattacappo al tecnico bianco-rosso. Potrebbero essere proprio loro due a fare da compagni di reparto a Rebomber Scotto, sempre più lanciato verso la doppia cifra. In attacco inoltre dovrebbe essere a disposizione anche Finocchio, rimasto a lungo ai box. Confermate invece le assenze di Giorgi e Venturini. In paglio tre punti fondamentali per il cammino di Bianco-Rossi che hanno la possibilità di raggiungere il quinto successo consecutivo.